Crescere e rilanciarsi con Invitalia, Fondo Salvaguardia Imprese e Fondo Cresci al Sud è l'importante tema affrontato a Brindisi da Invitalia in collaborazione con Confindustria Nazionale per illustrare i due fondi gestiti da Invitalia, in particolare il Fondo Cresci al Sud che ha l'obiettivo di agevolare attraverso investimenti nel capitale di rischio la competitività delle piccole e medie imprese, aventi sede, legale e attività produttive nelle regioni del mezzogiorno uno strumento fondamentale per affrontare questo periodo di crisi tra aumento dei costi e assenza di materiale In Invitalia si gestisce e supporta molte aziende e tutti gli strumenti di agevolazione buona parte degli strumenti di agevolazione e qui siamo per una parte un po' specifica di Invitalia che è l'area di gestione fondi, abbiamo due fondi che gestiamo, uno proprio a supporto delle piccole e medie imprese del Sud buona in cui entriamo per cinque anni in posizione di minoranza con un co-investitore proprio per favorire lo sviluppo, la crescita con tutti gli strumenti e le conoscenze che abbiamo a disposizione Ci sono tante misure, ci sono tanti fondi a cui spesso le aziende magari non guardano neanche perché nonostante abbiano magari una buona programmazione però sono prese dalla quotidianità e dai problemi quotidiani del loro lavoro, soprattutto in questo periodo hanno a che fare con la difficoltà di reperire materie prime il costo delle materie prime, il costo delle bollette elettriche e del gas hanno difficoltà naturalmente primarie, almeno del momento, e non guardano invece a quelle che sono l'occasione di crescita Grazie Grazie